Mi sta dando veramente delle belle soddisfazioni, ma se potessimo avere di più? Ciao e bentornati in questo nuovo video. È da qualche settimana che sto ascoltando il mio nuovo impianto di Edifive. Il Lunae 235, due altoparlanti e un subwoofer. Mi sta dando veramente delle belle soddisfazioni. Ma i cavi originali che danno in dotazione non sono secondo me sufficienti per rendere giustizia a questo impiantino. Ed è per questo che ho deciso di eseguire un upgrade. Ho comprato tre prodotti per migliorare l'acustica di questo impianto. Ed è per questo che ho deciso di utilizzare OLBAC Leader nel settore dell'acustica. In questo video vedremo l'unboxing di tre cavi che ho deciso di acquistare. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Ecco qui la mia scelta. Partiamo dal primo prodotto OLBAC Performance Y Adapter Cable. 3,5 mm, due cavi NF1 Jack. Allora io ho preso la lunghezza di un metro. Ci sono diverse lunghezze. Cavo flessibile OFC, quindi mancanza di ossigeno. Questo permette di non far ossidare i cavi. 24 carati, full metallo, tecnologia tedesca, 30 anni di garanzia. Un packaging veramente di tutto rispetto. Tiriamo qui, riusciamo a vedere l'anteprima dei cavi. Lo andiamo ad unboxare. Ecco qui, non ci serviranno questa volta le forbici. Vediamo. Ecco qui. Allora, confezione nera, packaging veramente di pregio. Tiriamo fuori il nostro cavo. Si presenta in questo modo. Un calibro veramente molto molto generoso. Fascette raccogli cavo con la scritta OLBAC. contatti in oro, jack da 3,5 mm e canale destro e canale sinistro. Bene, mi sono munito anche del calibro. Così vi faccio vedere anche un po' il diametro. Ma prima di farvelo vedere, volevo farvi vedere la qualità costruttiva. Cioè veramente di alto livello. Non ho mai avuto dei cavi con questa fattura così. In qualche video scorso avete visto l'upgrade che ho fatto al mio edifier, il mio impiantino precedente, in cui avevo installato dei focal. Ecco qua, guardate, veramente. Riconosciamo il canale destro dal canale sinistro. In base alla scritta, ecco qua, rossa e bianca. Prendiamo magari il calibro. Lo accendiamo così vi faccio un attimo vedere. Allora qua siamo a 5 mm. Quindi siamo a mezzo centimetro di cavo. Anche il connettore, devo dire che è abbastanza generoso. Siamo a 12 mm. Poi faremo anche una comparativa con i cavi che sono presenti in confezione. Questa è anche un'ottima schermatura contro le interferenze. Proseguiamo con il prossimo prodotto. Passiamo al prossimo prodotto. Cavo di alimentazione dei due altoparlanti. E sì, anche il cavo di alimentazione ha un suo perché. Qua vi fa vedere l'anteprima. Allora, power cord C7. Ho preso la lunghezza di un metro e mezzo. Cavo fessibile, sempre offici, 24 carati, 30 anni di garanzia. Lo andiamo ad unboxare. Non serviranno le forbici. Ottimo. Così almeno si risparmia anche sull'utilizzo della plastica. Che non è male. Ok, la andiamo ad unboxare. Anche qui materiali di pregio, sfondo rosso come quello in precedenza. Eccolo qua. Beh, il calibro devo dire che rimane, secondo me, pressoché simile, se non uguale agli altri. Questa è una presa europea. Qui abbiamo il connettore. Per chi se lo ricorda, magari è quello che si usa anche nel Mac Mini o in alcuni impianti audio. In questo caso andremo ad alimentare le nostre casse. Anche qui contatti in oro. Qualità costruttiva, devo dire, sempre veramente ottima. Passiamo al terzo prodotto. Cavo di alimentazione del subwoofer Stromashulkecular. Power cord C13. Un metro e mezzo. Suco. Questo è quello che si utilizza anche negli alimentatori per i computer fissi. flessibili Ofici, 24 carati, 30 anni di garanzia. Anche qui lo andiamo ad aprire. Qua ci fa vedere l'anteprima. Lo andiamo ad unboxare. Anche qui non serviranno le forbici. Ecco qua. Questo è veramente un calibro, devo dire, molto generoso. Contatti in oro per la presa asciuco. Anche qui raccogli i cavi, come in tutte e tre gli accessori. Un dettaglio veramente non indifferente. Prendiamo il nostro calibro, lo andiamo ad accendere e andiamo a misurare. Allora, qui siamo a 82 mm. Adesso andiamo a fare una breve comparativa con i cavi che ci vengono dati in dotazione. Allora, vediamo cosa c'è nella confezione. Questo è il cavo jack da tre e mezzo, cavo ottico Toslink Mini Toslink, cavo di alimentazione che ho temporaneamente staccato e l'altro cavo di alimentazione. Questo è per gli altoparlanti, questo invece è per il subwoofer. Nella confezione manca il cavo jack 3,5 RCA. Io ne avevo uno in casa e l'ho installato. Allora, facciamo un attimo un recap. Mettiamo tutto da parte e cominciamo dall'alimentazione del subwoofer. Allora, prendiamo il nostro calibro, andiamo a misurare. Allora, qui siamo a 65 contro i 83. 83, per cui devo dire che già qui c'è una bella differenza. Vediamo anche l'alimentazione. Allora, misuriamo anche qua. Ok, allora qui siamo sui 36, mentre qui siamo sui 45. Quindi anche il calibro, devo dire che è aumentato. Adesso vi faccio vedere il cavo che utilizzo per collegarlo al computer. Allora, questo è quello che utilizzo. Ce l'ho già da qualche anno in questa colorazione bianca. È già un cavo che ha comunque i contatti placati in oro. Questo è tutto alluminio. Il calibro è già un po' più importante. Mi ha dato delle belle performance, devo dire. E ve lo misuro, così ci rendiamo un attimo conto. Allora, qui siamo sui 48, 46. Allora, vediamo anche il connettore. Siamo sui 109. Allora, vediamo qua. Ecco qua, già siamo a 51 contro i 46. Lì eravamo a 109. Qua siamo a... Qua siamo a 119, quindi anche qua il calibro è nettamente migliorato. Allora, vi tolgo anche queste parti di plastica, così li andiamo a confrontare. Allora, insomma, come vedete c'è già visivamente una bella differenza. È tutto oro, 24 carati. Anche il prezzo chiaramente cambia notevolmente. Questa parte qui, morbida, ci permette di non far rovinare il cavo alle estremità. Ci dà anche la possibilità, volendo, di poter sostituire i connettori, cosa che non è possibile fare nell'altro cavo. Adesso a questo punto direi di andare a installare tutto. Ok, allora andiamo a rimuovere i fermi cavi, tutti e due. Perfetto. Lo mettiamo un attimo da parte. Ci colleghiamo. Questo è quello vecchio. E adesso andiamo a montare il nuovo connettore. Dopo, in base alla lunghezza, potete decidere di nuovo di applicare i fermi cavi. Bene. Allora, lo poggiate sul tavolo. Magari utilizzate una base morbida sotto per evitare di graffiarlo. Lo andiamo a rimuovere in questo modo. E andiamo a togliere i fermi cavi. dal nostro connettore. In questo modo. E lo andiamo a collegare. Perfetto. Ok, andiamo a collegare prima un cavo e poi anche l'altro cavo. Ultimo passaggio. Rimuoviamo i fermi cavi. E adesso non ci resta che collegarlo. Ok, lo andremo a collegare qui dove era scritta AUX IN. O ottico IN. Prendiamo il nostro cavo e lo andiamo a collegare. Ecco fatto. Rispettiamo i colori e lo andiamo a collegare. Prima il rosso e poi il bianco. E adesso non ci resta che accenderlo e provarlo. Fuoco alle polveri. Come vedete si è acceso il led rosso. Prendiamo il telecomando, lo accendiamo, lo mettiamo sul verde e diamo play. Prendiamo il telecomando, lo accendiamo. Prendiamo il telecomando, lo accendiamo, lo accendiamo. Prendiamo il telecomando, lo accendiamo. Prendiamo il telecomando, lo accendiamo. LMC facendo serie alle polverei e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Beh ragazzi è ingestibile ad alto volume Ok è arrivato il momento di trarre le conclusioni Quanto speso per eseguire questo upgrade? All'incirca una settantina di euro per cui dovete valutare bene intanto il costo principale del vostro impianto sicuramente l'utilizzo di cavi più performanti vi aiuta io vi ho fatto ascoltare semplicemente dei brani di youtube ho fatto la prova anche con altri brani ho ascoltato un po' di musica anche con Spotify con Amazon Prime Music ho visto qualche film e l'aumento prestazionale veramente incredibile è certificato THX quindi veramente sentirete tutti i minimi dettagli durante la visione di un film o magari mentre ascoltate della musica. Vale la pena eseguire questo upgrade? Dovete sempre tenere in considerazione primo fattore che cosa ascoltate e in che formato se ascoltate principalmente MP3 non vale tanto la pena se andate su una qualità audio un po' più alta con meno compressione sicuramente riuscirete a godere appieno di questo impianto. Per quanto riguarda i film Amazon Prime Video come Netflix vi dà la possibilità di usufruire di un 5.1 quindi un audio veramente ottimo anche Spotify e Amazon Prime Music vi dà musica di alta qualità riuscirete ad apprezzare al minimo ascoltando ogni minimo dettaglio. Ho scelto OLBAC, io è una marca che ho conosciuto per la prima volta acquistando il cavo di alimentazione per il mio pc perché non bisogna scherzare con i cavi di alimentazione è veramente molto importante. Andando su Amazon e spulciando un po' ho trovato degli altri cavi e ho deciso di acquistarli. Sono rimasto veramente pienamente soddisfatto di questo brand spero di provare altri prodotti e inoltre è possibile collegare questo impianto attraverso il cavo ottico Speedif Mini Speedif non ho notato una grande differenza preferisco utilizzare i cavi RCA. Nel prossimo episodio vi porterò la recensione completa così lo testerò anche lo metteremo sotto torchio e vediamo un attimo che cosa ci può dare ancora questo impiantino. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate OLBAC se la state utilizzando e come vi state trovando. Fatemi sapere se anche voi fate degli upgrade ai vostri impianti audio e che cosa utilizzate. Spero che questo video vi sia stato utile lasciate un bel mi piace commentate condividete da OLBAC. E' da te che era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao.